Fate uno spazio accogliente e disponibile perché entrino nella vostra vita tutti i minori del vostro tempo, gli emarginati, uomini e donne che vivono per le nostre strade, nei parchi o nelle stazioni, le migliaia di disoccupati, giovani e adulti, tanti malati che non hanno accesso a cure adeguate, tanti anziani abbandonati, le donne maltrattate, i migranti che cercano una vita degna, tutti quelli che vivono nelle periferie esistenziali, privati di dignità e anche della luce del Vangelo. Papa Francesco ha incontrato i membri delle famiglie francescane del primo ordine e del terzo ordine regolare e li ha invitati a incarnare l'esempio del poverello di Assisi. Il Pontefice ha chiesto a tutti di compiere un esame di coscienza su quello che si considera necessario, di farsi contagiare dal dinamismo della carità e di vivere la minorità come luogo d'incontro con il creato. Oggi questa sorella e madre ha detto si ribella perché si sente maltrattata. Davanti al deteriorarsi globale dell'ambiente vi chiedo di entrare in dialogo con tutto il creato superando qualunque calcolo economico o romanticismo irrazionale. Grazie. 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 Grazie.